È chiuso! È chiuso! No, no, scusi, scusi, il ponte è impraticabile, c'è il rischio di crollo. Non curanti del divieto di attraversamento a causa del ponte pericolante, c'è qualcuno che continua a voler proseguire nella sua corsa e come ci dice il sindaco di Silea, Rossella Cendrona, per lungo tempo c'è anche chi contro il divieto ha gettato le transenne nel Sile mettendo a repentaglio le vite degli altri. Buttando le transenne in acqua, togliendo i cartelli, togliendo i divieti di transito rendono meno visibile quello che è un divieto a oltrepassare il limite della passerella. Ha un evidente problema di crollo il ponte, è reso evidente da quello che è stato lo studio statico del comune di Silea e per questo abbiamo chiuso immediatamente. Eppure basterebbe aspettare due mesi per poter attraversare in completa sicurezza. Questo ponte pericolante, chiuso ai pedoni da marzo 2019, verrà sostituito completamente per il prossimo maggio. I lavori inizieranno a metà marzo, durate dei lavori un mese e mezzo. Il comune di Silea si è proposto di eseguire a sue spese lo studio di fattibilità e del progetto per la realizzazione del ponte Pavan che si trova nella zona che costeggia i laghetti artificiali lungo la Restera e a due passi dal cimitero dei Burci. Sarà sostituito da un ponte con una campata unica di 22 metri in acciaio, completamente in acciaio e quindi risolveremo il problema della manutenzione. La realizzazione dell'opera dal costo complessivo di 100.000 euro sarà finanziata per il 50% dal comune e per il 50% dall'ente parco. che purtroppo, come sappiamo, anche se sarebbe l'ente preposto alla manutenzione, non ha fondi e anche per quello che riguarda le alberature, le potature e le rive. Diamo fondi al parco del Sile perché possa occuparsi di questi problemi.